Ecco oggi abbiamo votato un arancio, un albero d'arancio stiamo bruciando le foglie, i tronchi, c'è Pischetto, mi sembra vulcano sa fa tutto Pischetto, ha preso passione alla terra e inoltre stiamo curando pure l'orto, le zucchine e le melenzane stanno crescendo, questi suoi pomodori e questa è l'insalata che abbiamo piantato adesso, abbiamo prima zappato concimato e poi abbiamo messo la striscia che serve per innaffiarle, abbiamo il pozzo artesiano insomma non le faccio proprio dritte come faceva mio padre però diciamo ci metto tutta la buona volontà, questa è l'insalata cappuccina da sempre usata da noi alla faccia della Monsanto che vorrebbe chiuderci la nostra produzione, vedete questo è un pesco, abbiamo votato, stiamo votando quest'albero e sti calchi, oggi siccome la giornata non è proprio buona ci siamo mantenuti qui e non siamo andati a terra rossa ma non abbiamo ancora finito, comunque già abbiamo dato aria a quest'albero, si deve votare ancora per il meglio, ma non fa niente, poi appena finito in terra rossa ci dedicheremo agli alberi con più cura, agli aranci, mandaranci, manderini e ho visto che dopo la pioggia di ieri e di oggi anche i cannellini sono nati, i fagioli cannellini, qua c'è un po' di prezzemolo e basilico e ora siccome è tardi ce ne andiamo a casa